Tutti abbiamo odiato le formiche che minacciano i nostri picnic. Qualcuno invece in Colombia le cucina, una particolare specie di insetti chiamati formiche culone, uno dei ristoranti più noti di Bogotà, il Minimal, ha deciso di battere nuove strade, andando a provare ricette che il pubblico sembra apprezzare. Minimal esiste da oltre 16 anni, ma ormai sono tanti i ristoranti che lo imitano. Edoardo Martinez è lo chef che ha iniziato a testare le possibilità di cucinare insetti. Per noi è importante esplorare il gusto e ogni ingrediente ti vincola con un paesaggio o un territorio. E' questa la relazione che creano le formiche culone, ad esempio con Santander, nel nord del paese. Le formiche culone si vendono da anni in pacchetti e sono abbastanza costose, ma sono considerate una leccornia dei giorni di festa, qualcosa che i colombiani considerano legata a una tradizione ancestrale. E' qualcosa di antico, una tradizione, perché i nostri antenati ci raccontavano di questi animali super nutrienti e noi li mangiamo da allora. Qualcuno storcerà il naso, ma come dice il proverbio, dove c'è gusto non c'è perdenza.